Batipaia piange Antonino Lagana, il ciclista 66enne investito ieri mattina sulla strada Tirrena Inferiore da una Citroen Xara Picasso in località Fuscillo a Capaccio. Sul posto sono subito intervenuti i paramedici della Croce Azzurra di Agropoli e Capaccio Pestum, ma non c'è stato niente da fare per il 66enne deceduto sul colpo per le gravi lesioni sul corpo, impattato prima contro il parabrezza e poi finito sotto le ruote anteriori del veicolo. Il magistrato Francesca Fittipalli, intervenuto sul posto insieme agli agenti della stradale di Vallo della Lucania e ai carabinieri di Agropoli, ha disposto l'esame esterno sul corpo effettuato ieri dal medico legale prima di restituirlo ai familiari. Secondo una prima ricostruzione, il settantenne a bordo della Citroen avrebbe leggermente virato verso destra a causa di un inatteso sorpasso a sinistra, investendo il ciclista che percorreva la statale senza invadere lo spazio riservato alle automobili. I funerali oggi alle 17 presso la chiesa Santa Maria della Speranza di Batipaia, città d'origine del ferroviere in pensione con il ciclismo nel cuore.